L'assessore della Penna, c'è stata questa scintilla scoccata in brevissimo tempo, avete già visitato la città, a me gli è rimasto entusiasta, ti basta. Sì, possiamo dire che a Marco siamo amici, ovviamente preciso, non l'ho scelto io l'allenatore ma l'ha scelta la società a cui va il mio, veramente sentito di cuore, ringraziamento per aver fatto questo regalo alla città. Marco è un uomo di sport, un uomo di calcio, è un uomo che ha vinto tanto, ha vinto un mondiale, ha vinto la Champions, ha vinto il campionato, quindi è soprattutto un uomo che può dare un esempio, può riportare le famiglie allo stadio, può riavvicinare la città e ricreare un entusiasmo che qui a Vasto, soprattutto dopo l'ultima stagione, era un pochettino svanito. Ora, vi confesso che quattro anni fa avevo provato a portarlo qui a Vasto ma i tempi non erano maturi, dopo quattro anni ci siamo riusciti, l'abbiamo fatto in occasione di un evento che abbiamo organizzato, un evento di beneficenza. Marco è un amico ormai da anni, l'ho portato in giro per la città per fargli ammirare le bellezze che la nostra città offre. Si è innamorato e quindi oggi siamo qui alla presentazione. Si riparte senza fare grandi proclami ma l'obiettivo è quello di alzare l'asticella rispetto allo scorso anno, alle sofferenze della passata stagione? Credo che l'auspicio sia quello da parte della società e l'importante è lavorare in modo di qualità. Marco può rappresentare questo trait d'union tra il passato e il presente perché può sicuramente portare una professionalità aggiuntiva, quanto di buono hanno fatto precedentemente i soci. E sì, alzare l'asticella dal punto di vista della qualità e calcisticamente parlando speriamo di riportare Vasto lì dove merita.